Andrea Polarossi, primo ottobre, CrossFit Branco, Italian Throwdown, Qualifier 2, Scale, 15, L1, Daniele Rossi, bilanciere da 20, disco da 5. Um innanzitutto per Qu 솔ent問題, Fury, B 5, 4, 3, 2, 1, 2. 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.